Un giorno speciale questa mattina per Soveria Mannelli perché abbiamo tanti ospiti, abbiamo soprattutto François Nicoletti, abbiamo il Presidente Provinciale dell'UNESCO che ci ha voluto onorare perché Soveria Mannelli ha avuto in dono l'albero della pace, un ulivo in ferro battuto straordinario che non servirà ad abbellire certamente soltanto la città ma costituisce un impegno per l'amministrazione di Soveria di percorrere e di diventare strumento di pace sia nell'attività e sia nella vita propria. Grazie